Siamo purtroppo costretti ancora a combattere contro il virus. Dobbiamo continuare a lottare per tornare alla nostra normalità, alla nostra vita. Sappiamo tutti che indossare dispositivi di protezione è forse il modo più efficace con cui proteggere noi stessi e gli altri. Ma sappiamo davvero quanto scegliere la giusta mascherina sia fondamentale. Le mascherine non sono tutte uguali. Vera P2 è prodotta con materiali tutti certificati e approvati. La facciamo interamente in Italia. Questa che vedete è realmente l'azienda italiana dove la produciamo. Vera P2 viene costantemente sottoposta a test di filtrazione nei nostri laboratori dedicati. La sua forma e le sue dimensioni consentono un'incredibile copertura e un eccezionale comfort. Gli elastici sono studiati per alleviare il fastidio nell'indossarla per periodi prolungati, mentre la completa gamma di colori disponibili rende Vera P2 un dispositivo che si adatta a tutti i tuoi gusti e le tue esigenze. Ma la cosa davvero importante è che grazie ai suoi cinque differenti strati e alla qualità dei materiali, Vera P2 è certificata CE2761 da un ente certificatore italiano. Confezionate singolarmente per una perfetta igiene, le mascherine Vera P2 rispettano tutti i severi requisiti imposti dalle normative vigenti. Sono comode, traspiranti, perfettamente aderenti al volto, 100% made in Italy e, soprattutto, sono efficaci. Mettiti al sicuro con Vera P2. Grazie a tutti.